attenzione la collezione 2008 si non è che dovete cambiarvi veramente però eh miss ciclismo io no io no io guardo eccoli bellissimi con una fantastica miss vedete coordinatissima vedete che belli camicina a scacchi eh magliettina di zorrina vedete ah che bravi che sono che sfilare con veramente leggiadria ma vediamo ecco la fase complessa la fase chic della serata vedete eh modello hip hop contro modello da alta serata di gala eh vediamo anche le scarpe dettaglio da non trascurare ma adesso viene il meglio eh adesso viene veramente il meglio la il modello weight watcher modello eh la 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 il trio conduce Claudio seguito da Loredana e Laura passo felpato molto maschio mettiamo molto a sincronia in due o tre qui c'è del professionismo potremmo fare i modelli conducono Alessandro e Claudio è molto mascolinità anche lei che vuole salire arriva la sinistra Marco bisogna fare la faccia con la gamba adesso perché camminano così grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti